I commercialisti e la società civile, focus economico e legislativo nel contrasto alla violenza sulle donne. Il tema affrontato nel corso dell'ennesimo convegno promosso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore. Spesso alla base dei dissidi in seno ad una coppia ci sono anche motivazioni di carattere economico e patrimoniale e il commercialista può essere una sentinella. La mission di questo evento è quella di far capire quanto sia importante la presenza nel tessuto sociale del Dottore Commercialista e quindi il suo coinvolgimento in aspetti apparentemente direi estranei o meglio che agli altri possono sembrare estranei. Ci si potrebbe chiedere che cosa c'è di istituzionale in un evento che invece ha origini e punta su un fenomeno sociale. C'è attinenza perché per esempio il progetto alternanza scuola-lavoro di cui il nostro Ordine comunque si occupa non è istituzionale ma si fa. Quindi la vision dell'Ordine deve essere quella di sussidiarietà politica nello sviluppo del territorio e quindi bisogna andare oltre il concetto direi riduttivo che il commercialista è quello che fa pagare le tasse. Le nostre competenze economico-giuridiche ci devono consentire di fare cultura economica soprattutto tra i giovani per far comprendere quanto il nostro contributo possa essere importante da questo punto di vista. L'evento che è stato organizzato praticamente si sviluppa in due momenti. C'è stato il momento mattutino in collegamento streaming dall'Ordine di Milano praticamente e poi ci sarà l'evento pomeridiano durante il quale noi esamineremo la problematica del problema della violenza sulle donne da un punto di vista locale. Noi interagiremo con alcuni dei nostri attori che sul territorio si occupano della problematica da punti di vista differenti e con prospettive differenti. Essi ci regaleranno le loro testimonianze, le loro esperienze per indurci a riflettere su un fenomeno delicato, importante e al contempo ovviamente doloroso. Noi nella nostra professione e nei nostri studi abbiamo a che fare naturalmente con i clienti. Il commercialista in qualche modo diventa il confessore del cliente. Quindi noi nella nostra attività professionale riusciamo anche a cogliere aspetti che riguardano la vita familiare e quindi i conflitti familiari che ci possono essere, i conflitti generazionali nel caso di passaggio tra padre e figlio dell'azienda. Quindi tutti aspetti che in un momento di crisi economica che purtroppo dura dal 2008 possono esasperare il problema del disagio economico che è uno degli aspetti fondamentali che causa questo fenomeno. Perché purtroppo la donna molto spesso non ha quell'indipendenza economica che le consente di affrancarsi anche da situazioni dolorose. E quindi semplicemente per comodità consapevolmente decide di continuare a svolgere quel ruolo magari di mamma, non lo so, di compagna, accettando poi tutte le cose negative che una violenza può comportare. Dove per violenza di genere dobbiamo intendere qualsiasi tipo di prepotenza fisica e psicologica perpetrata nei confronti delle donne. Quindi parlo per me, per l'ordine, per tutti gli ordini che hanno sposato questa idea e che a livello territoriale hanno deciso di organizzare l'evento. Un tema molto attuale, purtroppo la cronaca di ogni giorno parla di violenza sulle donne, anche l'ordine dei commercialisti. Vuole parlare di questa tematica scottante e tra l'altro il ruolo del commercialista può essere fondamentale perché spesso i dissidi nascono anche per motivi economici. Assolutamente sì e parte da qui, proprio da questo, la nostra iniziativa Odirna continua il nostro impegno di un ordine presente sul territorio, non solo da un punto di vista tecnico ma soprattutto da un punto di vista sociale, commercialista come anello di congiungimento della società. Oggi parliamo della violenza sulle donne, un tema molto sentito, un tema che noi commercialisti sentiamo particolarmente perché spesso e volentieri ci troviamo a dover dare anche consigli e suggerimenti in ambito delle spese familiare e certamente questo può essere un primo campanello d'allarme che potrebbe far sì che il commercialista potrebbe anzitempo denunciare una situazione poco chiara. L'esimo momento di apertura al sociale, al territorio, a ciò che ci circonda. Qualche giorno fa eravamo qui per un'iniziativa di beneficenza, insomma l'ordine non deve rimanere chiuso nelle proprie stanze, il commercialista come diceva prima anche il nostro collega non deve soltanto far pagare le tasse? Diversamente siamo commercialisti, con questa consigliatura abbiamo voluto intendere il nostro ruolo in tal senso. Non siamo più e non saremo più solo semplici esecutori della contabilità ma daremo il nostro giusto apporto e contributo alla società negli ambiti più disparati.